Nel matrimonio c'è la soluzione Per tutti i mali che un'altra persona risolverà i problemi Invece di spiegarti come affrontare i tuoi Ti hanno convinta che si ha bisogno di un sostegno per camminare Che non sia semplice resistere Invece di spiegarti come restare su Ma non ti senti cosa stai dicendo Soffermati Secondo me dovresti prima superare le tue ansie E poi cercare qualcuno accanto che interroghi Che rassicuri tutte le stabilità Che sei riuscita da Ferrari Credimi Mi parli di impegno Di matrimonio chiesa prenotata Ma i nostri spazi Cerchi le tue certezze per paura di fallire Perdere con il tempo tutto ciò che ami Ma non ti senti Ma non ti senti cosa stai dicendo Soffermati Soffermati Secondo me dovresti prima superare le tue ansie E poi cercare qualcuno accanto che interroghi Che rassicuri tutte le stabilità che sei riuscita da Ferrari Credimi 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 Credimi